Cari amici, oggi saremo stringatissimi perché purtroppo la batteria... No, ma anche perché quello che dovevamo dire l'abbiamo già detto, noi dobbiamo dare documentazione al fatto che abbiamo avuto massima attenzione, udienza al Tribunale Tarra, Tribunale di Amministrativo regionale che però ha anche valenza nazionale, perché il Tarra del Lazio è quello che si occupa di tutte le tematiche dei vari Tarra d'Italia. Esattamente, quindi questa breve intervista, diciamo così, video che proponiamo oggi è in merito al fatto eclatante che quella nostra denuncia che avevamo presentato prima in sede penale e poi adesso in sede di ricorso al Tarra per sospendere l'attuale tentativo di sovvertire il sistema repubblicano, democratico e costituzionale da parte degli infami solidi che sappiamo bene e finalmente sa per essere in qualche modo ostacolato da noi, con i nostri mezzi e risorse, però finalmente abbiamo avuto stamattina l'udienza, cosa stranissima, nel breve periodo di solo 12 giorni dal momento della presentazione del ricorso al momento della fissazione della prima udienza per stabilire se sussistono i motivi della procedere o eventualmente rigettarla. Oggi finalmente possiamo dare l'informazione che parlato attraverso due diversi momenti, prima Giorgio Vitale attraverso il suo avvocato e poi io successivamente per mio conto in discussione con il Presidente del Tribunale abbiamo ottenuto che finalmente questo procedimento sia incardinato e la causa del merito venga posta a nostra disposizione, quando prepareremo tutti i documenti necessari, andata da destinare su nostra specifica richiesta o su richiesta del Tribunale, noi consensienti ovviamente. Esattamente. Che è successo? Siamo stati in udienza stamattina, in udienza preliminare, dove l'avvocato amico Maurizio Cerchiara ha messo in chiaro la non formalità della nostra procedura nella metodologia della sottoposizione al giudizio del Tribunale, diciamo come formulazione, ma comunque della valenza e della validità assoluta dei termini che noi portiamo in questione. E quindi ci è stato dato ampio riscontro da parte del Presidente e del giudice all'Adele che questa nostra richiesta è stata accolta sotto questo profilo. L'altra cosa importante è che anche io, autonomamente, e difeso da me soltanto, ho potuto parlare con il Presidente del Tribunale a cui ho fatto presente alcuni aspetti essenziali che evidentemente non erano stati recepiti nella loro completezza, dove ho enunciato la stravolgimento da parte della Cricca che ha messo in piedi dei nominati e non eletti, che ha messo in piedi questo teorema di sottrazione truffaldina dei diritti dei sovrani cittadini, della sovranità naturale sancita dalla Costituzione del popolo italiano, a cui ho ribadito che questa sottrazione è stata indebitamente messa in atto, addirittura stravolgendo gli obblighi di legge che prevedono l'indizione di un referendum consultativo e di tanti altri strumenti che non so dire. Quindi questo per ricordare a chi ci ascolta e chi ci segue che non è vero un cazzo che tutte queste nostre denunce non servono a nulla perché non è vero, non è vero perché invece noi abbiamo riprove oramai concrete di almeno quattro procedimenti in corso in questi ultimi mesi e che alla forza di battere e ribattere si plasma pure l'acciaio, quindi prima o poi ci vuole di più, bisogna battere di più ma prima o poi ci si arriva. Ma come hai detto tu del ferro, l'esempio del ferro, il ferro per batterlo bene lo devi prima ammollare, capito? Allora questo ammollamento richiede tempi lunghi, mentre la fase terminale della plasmazione dell'acciaio o di qualunque altro minerale comunque è abbastanza rapida, una volta che hai raggiunto la temperatura di lavorazione a secondo dei casi i 400, gli 800, i 1000 gradi, poi la lavorazione in sé è facile, è la fase della battitura che è quella più lunga, più faticosa e che richiede più convincimento. Questa fase, posso annunciarlo, finalmente l'abbiamo percorsa tutta, l'abbiamo terminata, stiamo incominciando ad arrivare alla fase della mallevabilità del materiale.